Buon lunedì amici di BetItaliaWeb, inizia una nuova settimana e per me inizia anche in modo abbastanza felice adesso già abbiamo pochi iscritti, ne perderò la metà però da interista sono stato ovviamente contento della vittoria dei Nerazzurri nel derby d'Italia oggi c'è Cagliari-Milan, posticipo che chiude la diciottesima giornata d'andata c'è molta attesa per Ibrahimovic che dovrebbe partire dal primo minuto per i rossoneri intanto come detto ieri l'Inter ha vinto il derby d'Italia 2-0 con la Juve i Nerazzurri volano a 2-25 nelle quote antepost per lo Scudetto e staccano ovviamente tutti staccano soprattutto la Juve che sale fino a 4-50 tra l'altro numeri alla mano, questa è la pagine stagione bianconera degli ultimi dieci anni in mezzo tra le due c'è il Milan a 3-50, come detto giocherà questa sera in questa stagione abbiamo detto delle tantissime vittorie in trasferta con un fattore campo svuotato dal Covid ma che già prima dell'arrivo del coronavirus era un trend che stava cambiando in questa giornata non c'è stata nemmeno una squadra corsare al momento chissà appunto se ce la farà il Milan a vincere questa sera in Sardegna è quotato intorno a 1,65 ne parliamo dopo in free pick, ve ne daremo tre tutte di calcio c'è anche la Serie B, derby emiliano Spal contro Reggiana pessimo periodo per gli ospiti che arrivano da un filotto di sconfitte consecutive c'è anche la Premier League col Monday Night Arsenal Newcastle ne parliamo dopo e ne parliamo dopo anche del campionato portoghese Portimonense Belenenses chiude il 14esimo turno della Primera Liga con il fanalino di coda ovvero la squadra di casa che spera di tornare alla vittoria contro una diretta concorrente in chiave salvezza e a chiudere la parentesi di calcio oggi abbiamo un programma un po' scarno ci sono anche due partite del campionato in Turchia attenzione perché domani torna la Coppa Italia ci sono in campo i turni infrasettimanali di Bundesliga, Premier League se non sbaglio anche Liga quindi avremo tanto calcio anche in settimana basket oltre al recupero Real Madrid Stella Rossa di Eurolega c'è anche Orzi Nuovi Capo d'Orlando tredicesima giornata del girone verde di Serie A2 della pallacanestra italiana dove tra l'altro si confrontano le prime inseguitrici della coppia di testa entrambe appaiate al terzo posto con 12 punti ed entrambe reduci da 5 vittorie di fila quindi partita molto interessante per la Serie A2 di basket italiano oggi abbiamo già finito il programma è il Martin Luther King Day negli States quindi tanto spazio agli sport americani sia NBA che NHL che iniziano già alle 18 orario italiano quindi dobbiamo anche andare veloci come sempre però vediamo i risultati del weekend è leggero negativo nel fine settimana 2-2 al venerdì dove è saltata subito la multipla di Serie A avevano dato l'X2 della Roma che ha perso nettamente il derby con la Lazio abbiamo sbagliato anche sabato il secondo tempo con più gol tra Torino e Spezia ci siamo ripresi in parte con l'azzardo di Serie A 3-34 avevamo dato una doppia con i gol di Crotone e non ricordo l'altra partita comunque una bella quotina 3-34 leggero negativo ancora purtroppo in questa terza stagione rimaniamo sotto di 198 euro meno 1,98 unità però come vedete nel complessivo da luglio 2019 siamo sempre belli alti e vediamo anche le tips di mercato e le giocate premium iniziamo da venerdì dove abbiamo fatto uno 0-2 nelle premium ma un 3 su 3 nelle tips di mercato che continuano a marciare alla grande e vi ricordo le trovate ogni giorno nel report sul canale VIP Telegram di Betting Maniac la nostra redazione ogni giorno monitora decine e decine di siti e di tipster in giro per il mondo per segnalarci i drop di quota i flussi di mercato più interessanti le giocate su alcune partite molto gettonate e ovviamente anche le ultime dai campi con le news sul covid problemi societari rientri, infortuni insomma tutto questo ben di Dio 3-0 al venerdì al sabato al sabato invece è un perfetto all green 5 su 5 nelle tips di mercato mentre nel premium abbiamo fatto 4 casse 5 errori e un rimborso e infine alla domenica alla domenica altro 4-1 nelle tips di mercato per un complessivo 12 pic esatte una sola sbagliata da venerdì a ieri domenica tra l'altro bene anche le premium le pic premium ne abbiamo date 10 ne abbiamo incassate 7 sbagliandone solo 3 e fra questi 3 errori 2 sono saltate davvero male per esempio la doppia che ci aveva dato Stryker in Argentina 2,26 di quota che salta per un gol al 93esimo minuto nel volley il nostro insider legge ancora bene una partita con una squadra nettamente favorita in questo caso era Verona però non entra all'over punti perché Ravenna non solo se l'è giocata ma ha schiacciato i Veneti 3-7-0 quindi è già la seconda volta di fila che ci succede questa roba ragioniamo sulla sfavorita ma poi non la prendiamo prendiamo l'over punti e ci frega con un 3-7-0 davvero tra l'altro Ravenna era quotata bella alta per la vittoria vabbè Sport americani dicevamo oggi si inizia presto col Martin Luther King Day intanto andiamo a vedere i risultati di ieri nel basket perché è stata un'ottima domenica dopo un avvio davvero difficile della regular season di NBA arriviamo da 4 giorni positivi uno dietro l'altro ieri 4-2 tra l'altro è entrata la combo tra Nuggets e Jets a 3-32 di quota abbiamo fatto anche delle belle prese e c'è saltata la doppia sulle Pro Bet come vedete abbiamo preso Williamson che lo avevamo consigliato anche in singola e abbiamo però sbagliato Zach Lavigne over 2,5 triple ha chiuso con uno 0 su 5 da oltre l'arco e con soli 10 punti del resto lo sapevamo contro la difesa di Dallas ci prendevamo qualche rischio avevamo dato anche una Pro Bet più alta 2,65 di quota anche questa purtroppo è saltata male perché avevamo dato la doppia doppia di Donchich che entra senza problemi lo avevamo detto anche in analisi Donchich può fare anche una tripla doppia e infatti l'ha fatta però ci frega Mike Conley over 25,5 punti più rimbalzi più assist indovinata quanto ha chiuso a 25 quindi davvero un peccato non aver preso questa doppia altrimenti sarebbe stato un profitto anche maggiore 2 su 2 tra l'altro anche nel college ieri avevo dato due doppie che sono entrate entrambe allora oggi dicevamo dalle ore 18 italiane la prima delle 9 partite in programma per il Martin Luther King Day è New York Knicks Orlando Magic nella notte grande attesa con Brooklyn Nets contro Milwaukee Bucks i Bucks di Giannino contro i Nets che hanno visto un grandissimo esorio in tripla doppia di James Harden Kevin Durant potrebbe tornare anche Irving insomma partita delle stelle ci sono anche i Lakers in chiusura che sfidano i Warriors si inizia presto anche in NHL 10 partite in programma anche qui siamo sul ghiaccio dalle ore 18 italiane con Detroit contro Columbus oggi invece un po' meno spazio al college basket però anche qui non mancano le sfide interessanti su tutto è ovviamente il big match di Big 12 tra Baylor che torna in campo qualche giorno dopo una vittoria che ci ha mandato anche in cassa Baylor seconda forza del ranking nazionale ospita Kansas i J-Hawks sono settimi invece quindi davvero una sfida di altissimo livello tra due pretendenti al titolo nazionale ci sono anche Louisville 18esima nel ranking nazionale che arriva da una brutta prestazione che invece in questo caso ci ha fregato una cassa dicevamo Louisville ospita Florida State in Atlantic Coast e infine in Big East vi segnaliamo anche Connecticut contro San Jones nel weekend ovviamente si sono giocati anche i playoff di NFL con i divisional round sono andati male nelle scommesse almeno per quanto mi riguarda ieri avevo dato Cleveland più 10 e mezzo Cleveland che ha perso contro Kansas City però ha perso solo di 5 anche se sono onesto la giocata principale nel VIP l'avevo data su New Orleans meno 2 e mezzo New Orleans di Drew Brees che perde contro i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady in una sfida tra due quarterback leggendari non me lo aspettavo sinceramente a New Orleans che Tampa passasse tra l'altro 30-20 ha vinto anche bene il giorno prima tremenda partita dei miei Baltimore Ravens che hanno perso contro Buffalo segnando soli 3 punti passa invece Green Bay con Aaron Rodgers che scardina anche la difesa dei Rams portando i Packers a 36 punti segnati davvero impressionante anche Aaron Rodgers le finali di conference saranno quindi Green Bay contro Tampa Bay un'altra grande sfida tra quarterback e Kansas City contro Buffalo domenica prossima va bene veniamo alle free pick di oggi come vi ho anticipato sono 3 tutte di calcio tutte di D'Artagnan tutte stake 1 stake standard iniziamo dalla serie A con Cagliari Milan vittoria del Milan a 1.68 tornato Ibra giochiamo sul Milan che deve rispondere all'Inter come dicevamo ieri ha battuto la Juve anche al Cagliari è vero che non manca la motivazione nella corsa per la salvezza però sembra mancare la qualità con i sardi che sono reduci da 4 sconfitte vi dico anche che i rossoneri hanno sempre battuto il Cagliari negli ultimi 3 precedenti segnando 8 gol senza incassarne nemmeno uno come seconda giocata andiamo in Inghilterra Monday Night Arsenal Newcastle Arsenal meno uno e Genendicap a 1.62 D'Artagnan ci dice che prima del pareggio senza reti col Crystal Palace l'Arsenal era in ripresa con 3 vittorie di fila e 8 gol segnati torniamo quindi sui Gunners che giocano ancora qui all'Emirates Stadium contro un avversario in crisi ovvero Newcastle che ha perso 3 delle ultime 4 partite compreso il recente KO in casa dello Sheffield United fanalino di coda tra campionato e coppe il Newcastle non vince da 8 partite oggi gli ospiti tra l'altro sono anche senza lo squalificato Ryan Fraser a centrocampo a centrocampo potrebbe mancare anche Jamal Lewis oltre a Federico Fernandez in difesa quindi fiducia nei Gunners che dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto in caso di vittoria minima avremo comunque il rimborso tra l'altro queste due partite quella del Milan e dell'Arsenal si potrebbero anche combinare in doppia andando con Arsenal vincente uno fisso quindi lasciando stare la Asian handicap il meno uno e aggiungendo il due secco del Milan tenendo i rossoneri come vincenti ultima giocata qui saliamo un po' in quota Portimonense e Belenenses andiamo con una combo 1x più under 2.5 a 2.10 occasione per la Portimonense che è penultima però gioca in casa a un solo punto in meno rispetto al Belenenses che ha fatto un solo punticino nelle ultime quattro giornate tra l'altro gli ospiti hanno anche molti assenti saranno indisponibili Silvestre Varela Richard Eduardo Cau Akas e anche Nilton Varela si sfidano comunque i due peggiori attacchi in 26 partite hanno combinato in tutto 15 gol quindi andiamo anche su l'under oltre all'1x dei padroni di casa va bene siamo arrivati alla fine ovviamente oggi più che mai seguiteci anche sui canali Instagram e Telegram di Betting Maniac perché daremo anche nel free tante giocate e tante analisi dell'NBA per festeggiare e celebrare il Martin Luther King Day come detto si inizia alle 18 si inizia fra poco quindi seguiteci trovate il link qui sotto e attivate le notifiche noi ci ritroviamo ovviamente domani pomeriggio io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa ciao